Capodanno senza botti ma con tante botti in un'abitazione di Possagno. Complice probabilmente l'alcol assunto nel corso della serata, un uomo di una cinquantina d'anni ha picchiato con un attizzatoio per il caminetto moglie e suocera davanti ai figli minorenni, costringendo i carabinieri ad intervenire. È successo in un'abitazione nei pressi dell'istituto Cavanis. La notte brava si è conclusa con la moglie che è finita all'ospedale, la suocera contusa che è stata medicata dai sanitari del 118 e l'uomo che ha rimediato una denuncia per lesioni personali. Alla base della lite che ha scatenato l'aggressione per futili motivi ingigantiti dall'alcol assunto durante il cenone. Erano da poco passate le tre della notte quando il pronto soccorso è arrivata alla telefonata con la richiesta di soccorso da parte di una donna di Possagno. All'arrivo trovano due donne in lacrime, non l'uomo alterato probabilmente dai fumi dell'alcol. Verrà trovato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri mentre vaga per strada con una valigia in mano. Per il cinquantenne è scattata una denuncia per lesioni personali aggravate dall'uso di un attizzatoio da caminetto. Grazie.